bentornati bentornate bentornato a il primo podcast che parla di salute mentale destigmatizzazione tutto in chiave pop ma noi non siamo mai ferme abbiamo bisogno di fare non siamo neanche mai sole in realtà non siamo mai sole non siamo mai svegli io non so voi ma ho sempre sonno costantemente guarda che non era il gioco di mettere parole con la s dopo il verbo scusa accidentaccio in realtà oggi siamo qui per presentarvi annunciazione un nuovo format allora tempo fa abbiamo fatto delle storie in cui vi chiedevamo di cosa avreste voluto che noi di no passa nada parlassimo barra profondissimo qualcosa che ha vinto a mano bassa sulle proposte è stata quella di azienda formazione quindi salute mentale legata al mondo del lavoro e noi che siamo magnanime buonissime abbiamo pensato di accontentarvi di ascoltarvi abbiamo creato un nuovo format il nuovo format si chiamerà maniac monday come la canzone avete presente giusto perché abbiamo capito che non possiamo mettere la musica format che uscirà ogni lunedì perché sappiamo che due lunedì cioè non tutti i lunedì nel senso un lunedì sì e uno no per ora quindi avremo uno settimana l'altra settimana no quindi due al mese francesca in matematica aveva quattro no tre ecco sì uscirà una volta ogni due lunedì e il giorno chiaramente scelto perché insomma lunedì è proprio è un giorno orribile gli unici che amavano il lunedì erano i The Roger ci sarà una ragione perché perché bevevano un saluto ai The Roger ciao grande punk vicentino ma no in realtà il lunedì è brutto solitamente se non abbiamo cose carine da fare a lavoro che è il caso di molti infatti ecco il motivo è questo manic monday ma non lo condurremo noi cioè questa è la vera vera novità di non passa nada introduciamo i format cocondotti da solo qualcuno di noi oppure senza nessuna cioè noi qui in questo caso c'è un po' Giulia ma poco sì in questo caso ci sono a livello spirituale germinale oserei dire etimologico no neanche beh sì 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 etimologico nozionistico semantico vabbè quante belle parole oggi ciao treccani eh l'ho ingoiata la treccani un contino e invece sarà con noi la nostra nuova amica co-host Alessandra Lupinacci Alessandra si presenterà in uno spezzone a brevissimo prima di ascoltare il contributo di Alessandra io direi che noi siamo felicissime di avere una Francesca fa le facce di avere una professionista come come lei già attivissima tra gli altri su linkedin medium clubhouse a parlare di tematiche del mondo del lavoro anche del fare impresa legate al benessere a quello che oggi le aziende fighette chiamano well being ma nel frattempo ascoltiamo il contributo di Alessandra grazie ragazze quindi come mi chiamo i nostri ascoltatori ascoltatrici lo sanno già aggiungo che arrivo dal mondo del recruiting mi sono sempre occupata di marketing nel mondo del recruiting online e orbito da molti anni nell'ambito delle risorse umane a cui sento di appartenere però in modo anche molto poliedrico infatti pur non essendomi occupata di gestione organizzativa complessa ho avuto modo nel corso degli anni di appassionarmi a tutto quello che riguarda la persona come individuo come potenziale candidato candidata e quindi professionista nel mondo del lavoro e della sua stessa vita e proprio perché ho avuto modo di conoscere tante storie di persone in tante parti del mondo prima di tutto e anche in punti diversi delle loro vite professionali a volte anche molto critici e vivere anche in prima persona nella complessità di una grande azienda fatta quindi da tante persone ho vissuto ho constatato situazioni che riguardano molto da vicino la salute mentale per il semplice fatto che salute mentale e lavoro non sono sconnessi come non lo sono corpo e mente la mente è il nostro strumento di lavoro se ci pensiamo e quindi prendercene cura è il modo migliore che possiamo attuare per restare presenti a noi stessi e ambire anche a qualcosa di molto meglio in generale io stessa nel tempo ho dato un valore diverso proprio all'autoconsapevolezza che è la nostra parola chiave e credo sia proprio arrivato il momento di parlare di quanto sia importante non sentirsi sottovalutati quanto sia fondamentale saper riconoscere che il disagio mentale anche nel lavorare o nel recarsi al lavoro o nel vivere certe relazioni in modo tossico sul lavoro siano disagi di tutti ecco perché vogliamo destigmatizzarli le generazioni prima della nostra ci hanno restituito un'interpretazione del mondo del lavoro legata a una necessità una fatica ad un obbligo al doversi guadagnare la pagnotta ecco appassionarsi divertirsi sono concetti arrivati con il tempo e comunque non del tutto assorbiti dalla quasi totalità della popolazione professionale di oggi in questa avventura insieme hanno passanada vogliamo raccontare i problemi di tutti sul lavoro vogliamo raccontare quindi le potenzialità di tutti e scoprire insieme come parlandone e raccontando le nostre storie possiamo scegliere deliberatamente di fare il nostro primo passo verso lo stare meglio e poi verso lo stare bene perché sia sempre comunque tutto molto più di uno stipendio qualunque so sia perché abbiamo il diritto ma anche il dovere verso noi stessi di esprimere tutto il nostro potenziale di esprimere tutto il nostro valore e di lavorare per questo su di noi e nelle nostre relazioni con l'ecosistema lavoro nella sua totalità spero sarete in tanti ad ascoltarci e a seguirci per adesso grazie Marta Francesca e Giulia grazie mille Alessandra per esserti presentata la prossima volta non lo so una delle prossime volte sarà in studio con noi così magari la facciamo anche in video e psicologa psicoterapeuta Giulia ma soprattutto comitato scientifico di No Passanada perché è importante parlare di questi temi oggi su questi canali con questo tale perché stiamo facendo una cosa che a parte che i nostri ascoltatori e ascoltatrici ce l'hanno chiesta ma caspita era la mia prima risposta no vabbè questo è la risposta zero perché sappiamo tutti che non c'è salute senza salute mentale e sappiamo anche che molti di noi passano la maggior parte del loro tempo in ambito lavorativo alcuni in... pensateci è letteralmente almeno un terzo della nostra giornata eh sì e non possiamo prescindere dal cercare un benessere in tutti gli ambiti della nostra vita se in effetti l'ambito lavorativo prende così tanto il nostro tempo ecco forse è il momento di investirci di poter portare un po' di... del nostro... della nostra visione un pop-up un po' destigmatizzante in tutto quello che è il quotidiano e quindi Maniac Monday io credo anche che ci sia un altro punto che è quello della pandemia cioè effettivamente adesso con quello che è successo e anche con tutte le discussioni interne con noi stessi e anche esterne e anche sociali sui nuovi schemi di lavoro no? è il futuro del lavoro il... il futuro delle imprese come... le competenze cioè tutte queste cose le life skills ecco poi hanno una... come dire un punto di arrivo, di atterraggio anche nella vita di ognuno di noi che sia singola o collettiva cioè sia che uno è libero professionista che lavora in azienda o comunque è un libero professionista che lavora con altri e anche uno in azienda che alla fine poi ci sono dei momenti in cui nonostante siamo tra colleghi uno può anche essere da solo con i suoi pensieri io credo che la pandemia abbia veramente finalmente in parte non completamente acceso i riflettori su questa cosa è ancora un grosso stigma ma se ne comincio a parlare a riprova di questo non per farci pubblicità da sole però noi abbiamo collaborato e continuiamo a collaborare con l'Unbeck per il nostro format Coming Clean sicuramente avremo modo e speriamo di collaborare con altre aziende per lo stesso motivo in altri format con altri tagli in generale per lo stesso obiettivo e che questo non sia esclusivamente un... non riesco a trovare la parola corretta perché mi verrebbe da dire un greenwashing si potrebbe dire un mental washing che però non è molto non è molto no però è un po' l'idea di ma ne parliamo perché è carino è di moda ecco è giusto tenerlo di moda ma è anche giusto dare dei consigli su come affrontare determinate situazioni che sono all'ordine del giorno perché io voglio sapere tra tutte le persone che ci ascoltano se ce n'è una che non ha subito o mobbing o ha avuto delle esperienze in cui non è riuscito o riuscita a gestirsi il lavoro per sovraccarico di lavoro o qualche relazione difficile con qualche collega cioè alla fine alla fine il punto chiave è che vivere ragazzi è difficile è difficile avere relazioni è difficile avere relazioni sane con gli altri e con se stessi quindi il nostro obiettivo è quello anche di rendere un po' più semplice il quotidiano e di portare consapevolezza ragazzi parola chiave della vita consapevolezza che potrebbe essere l'equivalente del pantone dell'anno esatto la nostra cosa la nostra è la parola dell'anno ed è consapevolezza totale awareness in noi stessi nelle nostre dinamiche e in quello che succede fuori da noi bene a posto direi che abbiamo detto tutto allora questo era semplicemente un trailer simpatico tra l'altro registrato alla fine di una lunga giornata di registrazioni quindi portate pazienza bear with us noi ci risentiamo con Alessandra come sempre aspettiamo i vostri input i vostri commenti se qualche azienda ci sta aspettando non abbiate si sta ascoltando non abbiate paura e non aspettate che questi temi arrivino prepotentemente sul vostro tavolo perché realmente come si diceva per la sostenibilità qualche tempo fa sono già qui e non c'è solo il parlare di ah inclusione smart working sostenibilità if not now then when ecco l'ha detto lei per far la figa lo fa in inglese ma ci sta devo dire che ci sta assolutamente quindi consapevolezza consapevolezza grazie mille per averci ascoltato ci vediamo con la nostra Alessandra Lupinacci sulle frequenze di non passa nada just not a manic money oh oh oh